chi mi conosce conosce anche la mia propensione all'immersione in acqua e veramente un fascino incredibile e trasmette un'energia pazzesca buongiorno amici tutti e bentornati sul canale è molto tempo che trascorro la maggior parte della mia vita all'interno dell'oasi dimenticandomi di fare qualche giga magari in simpatia o in amicizia o in compagnia come questa volta nella mia sorellina anche le scale ebbene sì c'è la bionda e la bruna la magra e la ciccia come dico sempre io dobbiamo passare in questo buco qua è basso erano proprio bassi approfittando quindi di una bellissima giornata seppure di gennaio ci siamo recati in un posto vicino in realtà a casa a pochi minuti una mezz'oretta circa alle grotte di ara in valsesia un luogo misterioso molto affascinante culla dei nostri antenati qui ci siamo immersi nelle acque nella natura baciate dal sole per rigenerarci poi ci siamo dedicati a una bella passeggiata a mangiare un panino e prima di rientrare alla macchina una bella cioccolata davanti al cammino a volte basta davvero poco per trasformare una quotidianità in una giornata speciale grazie a tutti